come si costruisce una carriera come la tua con tanto sacrificio non molando con dei valori molto importanti e soprattutto col rispetto c'è qualcosa che non rifaresti della tua carriera no io rifarei tutto perché credo che tutto quello che ho fatto in diversi momenti della mia carriera anche le cose negativa sicuramente mi hanno fatto crescere c'è un calciatore con cui avresti voluto giocare e non ci sei riuscito con matthews notar matthews che tra l'altro ha giocato nell'inter però ha messo prima di me